Musica Venerdì 4 dicembre, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento della Rassegna Stampa Vediamo subito il santo del giorno, poi le previsioni del tempo e naturalmente i giornali Allora cominciamo dal santo, oggi è Santa Barbara Santa Barbara è una santa famosissima, tra l'altro è anche la patrona dei vigili del fuoco Ringraziamo e salutiamo come sempre Poi il sole, il sole è sorto alle 7.24, tramonterà alle 16.32 Vediamo il tempo, oggi cielo parzialmente nuvoloso con temperature stazionari Gli eventi sono deboli, da nord il mare è quasi calmo Per domani, sabato 5 dicembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature lieve diminuzione Il mare sarà poco mosso, domenica, domenica 6 cielo poco nuvoloso Anche qui temperature lieve aumento, i venti sono deboli Allora, il tempo sarà stabile sulla regione Marche anche nella prima metà della prossima settimana Ma ancora con foschie o nebbie, specie durante le ore più fredde Andiamo e cominciamo Prima di leggere i giornali andiamo a vedere subito il nostro sito internet Occhialanotizia perché c'era un'ultima ora di ieri sera che non è riportata nei quotidiani Vedete in prima pagina sul sito occhialanotizia.it Donna trovata morta in casa per cause naturali Questa è la notizia che potrete leggere, un flash che potrete leggere all'interno del nostro quotidiano online Una donna di 58 anni che è stata trovata morta ieri sera intorno alle 20.30 nella sua abitazione in via dell'Abbazia a Fano Andiamo adesso invece a leggere i giornali dal resto del Carlino La pagina di Fano, l'incidente di Bellocchi Il SUV, cioè l'auto di grossa cilindrata, insomma l'auto dove c'erano le quattro persone a bordo Il SUV andava a folle velocità nella rotatoria L'auto è stata scaraventata, quella dove c'era il 78enne, a 30 metri di distanza Lo schianto mortale in via in Audi, il racconto shock dei testimoni Intanto oggi si sa qualcosa di più, i giornali scrivono qualcosa di più rispetto alla giornata di ieri Alcuni dettagli, per esempio il nome della vittima, Salvatore Lamacchia La persona che appunto è deceduta l'altra sera per questo incidente a Bellocchi Aveva 78 anni, abitava a Fano Ed era in macchina insieme alla compagna Alessia di 41 anni Che anche lei è rimasta ferita, in maniera però non grave per fortuna nell'incidente Poi le condizioni dei quattro che viaggiavano, quattro ragazzi a bordo che viaggiavano sul SUV Questo SUV che andava, secondo quanto racconta un testimone, come scrive il giornale Un SUV che andava molto veloce, è stato un testimone raccontato di essere stato superato da quest'auto Dei quattro occupanti, poche decine di metri prima dell'impatto E aveva visto il SUV andare a velocità sostenuta Poi l'altro particolare è che il conducente, così sembra essere emerso dagli accertamenti Era tornato in libertà da pochi giorni Questa notizia la ritroverete naturalmente anche sugli altri quotidiani Noi andiamo avanti con il giornale, il resto del Carlino però Perché si parla anche del carnevale, c'è il tesseramento Il tesseramento al via per 10 euro, con 10 euro si può essere protagonisti Sconti, panettoni gratis ai soci, un posto sui carri, insomma tante novità Anche in vista di questa assemblea che è prevista per questa sera al teatro Al teatro e quindi nella sala Verdi Che si trova in alto, all'ultimo piano del Teatro della Fortuna In piazza 20 Settembre Un appuntamento, dicevo, per questa sera alle ore 21 Dove si terrà l'assemblea dei soci Poi troverete anche notizie e anticipazioni sul Passaggi Festival Che è questo festival che ormai credo sia giunto alla terza edizione Ma cose di questo genere Comunque si svolgerà dal 23 al 26 giugno prossimi E insomma è un'edizione secondo gli organizzatori Sarà un'edizione secondo gli organizzatori da record E questo festival sulla saggistica punta tutto sulla felicità Con collaborazioni importanti e operatori culturali a livello internazionale In manette il rapinatore invece della Notte Bianca a Marotta Stava fuggendo in Albania Un'operazione che è stata chiamata Last Minute Ma questo per dire semplicemente che stava davvero L'hanno preso in tempo semplicemente all'ultimo minuto Perché stava appunto per andare via e andare in Albania È stato arrestato dai carabinieri di Marotta Il movente durante la festa il 39enne Aggredì un giovane campano per della cocaina Che non gli aveva pagato È un fatto che è avvenuto nell'estate del 2009 Poi sull'outlet, sempre a Marotta Parla il sindaco di San Lorenzo Ho detto sì all'outlet perché creerà nuovi posti di lavoro A Pesaro invece, sempre dal Carlino Crac Valle Verde Un arresto a Pesaro L'azienda di calzature è affondata in bellezza In sei ai domiciliari Si tratta di un manager di 48 anni Braccio destro del patron Armando Arcangeli Lo storico patron della Valle Verde Lo vedete nella fotografia Arcangeli Sequestrati Villa e Conti Ora il marchio è di una società estranea Ai fatti Sono stati requisiti 9 milioni di euro Come parziale ristoro Del capitale sparito Sotto parte la nuova bolletta E Eracom integra le marche Nuovi codici clienti per la controllata marchigiana Puntiamo su gas e energia elettrica A diventare il primo operatore del settore Lungo la dorsale adriatica Razzia di ladri Continua la razzia dei ladri in casa Questa volta è toccato al pianista Bavai Tagliata la cassaforte Rubati orologi d'oro e gioielli Il bottino oltre 100 mila euro Ma il grande fosse attivo l'allarme E un sistema anti-intrusione I malviventi lo hanno ignorato E quindi sono riusciti ad entrare Sul referendum La fusione di Pesaro e Monbaroccio Ricci non molla di un centimetro La fusione è una grande opportunità Secondo il sindaco di Pesaro Avremo più fondi Da un milione e mezzo a tre milioni di euro E servizi migliori E oggi il giornale pubblica una intervista Appunto in vista del 13 di dicembre Giorno del referendum Poi da Pesaro Cambiamo giornale Andiamo sul Corriere Adriatico Un comandante per riavviare la storia del cantiere navale Refitting di grandi yacht Il nuovo volto del Portobello Con Stuart Parvin nel cantiere Rossini Il direttore Postorino Conferma la creazione dell'area commerciale Brand e negozi legati alla canteristica A primavera i lavori di risanamento Ma l'inaugurazione non sarà possibile Prima del 2017 Anche qui sulla pagina del Corriere Adriatico Ha restato un imprenditore pesarese Ma noi ci concentriamo invece su un lutto Un lutto che ha colpito Giovanni, la famiglia di Giovanni Storoni Maestro di tennis di intere generazioni Morto ieri mattina nel reparto di terapia nel dolore All'ospedale di Fossombrone Giovanni Storoni appunto Storico sportivo pesarese maestro di tennis Che per almeno 50 anni ha insegnato questo gioco A intere generazioni di appassionati della Terra Rossa E sabato mattina sono previsti i funerali La pagina di Fano del Corriere Eccola qua invece Con l'auto finisce contro un muro C'è anche la fotografia della Punto Che è stata tamponata È stata tamponata da una Fiat 500 Nuovo tipo E ha praticamente sradicato tutta la juola La siepe è definita contro un muro Il muro di recinzione di un centro direzionale In via della giustizia E praticamente sopra un marciapiede Per fortuna in quel momento erano le 11.30 Non transitava tanta gente O comunque i presenti hanno fatto in tempo A starne fuori Via Inaudi invece Sull'incidente di Bellocchi Rotatorie invisibili e pericolose Rabbia dopo l'incidente mortale Si confondono con il selciato E l'illuminazione è scarsa Prima c'era un paletto Che aiutava in qualche modo A individuare il rondò Questa piccola rotatoria Poi è stato divelto E nessuno poi lo ha riposizionato Fuori pericolo I cinque Che sono rimasti coinvolti Nello schianto Non sono in pericolo di vita Il peggio si temeva Per la moglie della vittima L'unica vittima La macchia Ha rimasto appunto Ucciso in questo violento impatto E che si trovava a bordo Naturalmente insieme al pensionato La donna era alla guida dell'auto Era lei che guidava l'automobile La Ypsilon Il 78enne era al posto del passeggero Al suo posto Difficile poter dire se aveva le accinture oppure no Lui come abbiamo già raccontato Ha detto che non ce l'aveva O meglio Diceva la cintura alla cintura Questo adesso ci vorrà forse ancora un po' di tempo per capirlo Però ecco Quello che è stato fatale al 78enne E soprattutto il fatto che Quando l'auto si è capovolta Si è aperto il tettino Pare che sia il tettino panoramico Quello in vetro E quindi abbia poi battuto la testa E lì è stato davvero il guaio Poi sempre sul Corriere Adriatico L'altra pagina Quella di Sempre quella di Fano La sinistra Siamo contro ogni trivellazione Dura replica ai 5 Stelle Il documento votato impegna il sindaco Anche sui progetti attuali Poi sotto invece Nasce la tavola per la trasparenza All'invito hanno risposto 15 associazioni Libera Siamo soddisfatti di quanto si fa qui Poi sotto Beni confiscati alla criminalità Già individuati il secondo ed il terzo Omaggio in vernacolo alla Bohemian Rhapsody Andiamo sull'altra pagina del giornale Chiudiamo con quella di Fano e Valle del Cesano Anche qui la cronaca rapinò per un debito di droga Ed è finito in cella E uno dei due fratelli dell'aggressione della Notte Bianca Era pronto a fuggire in Albania E poi sotto invece da Pergola Preoccupati per l'outlet Il solito teatrino di Pergola Unita Sabatucci accusa Sono stati loro i responsabili del depauperamento Del commercio locale Adesso invece apriamo le pagine del messaggero C'è stata nella sala dell'hotel Federico II Agliesi Una partecipatissima Ovviamente non poteva essere altrimenti Assemblea degli azionisti di Banca Marche Beh insomma in 700 adesso come vedete dal titolo Minacciano di chiudere i conti All'interno dell'istituto di credito Dunque l'assemblea di obbligazionisti e azionisti Che hanno perso tutto Hanno varato una linea comune E dicono Se non troviamo un accordo Siamo pronti a lasciare e chiudere Tutti i nostri conti Parliamo di 700 conti correnti Andiamo sull'altra pagina invece Sarà un cantiere navale da Pesaro Sarà un cantiere navale tutto nuovo Questo è il titolo C'è stato un sopralluogo ieri del socio inglese Del direttore insieme con il comandante Della Capitaneria di Porto e il sindaco di Pesaro Verrà smontato il capannone Smaltite le due gru per questo inverno Previsti almeno 30 posti di lavoro Poi Nuova ondata di furti Saccheggiata anche la villa del pianista Bavai Una banda, una banda di 5 o 6 ladri Ha colpito in pieno pomeriggio Aperta con un frullino la cassaforte E devastata la casa Altre intuosioni anche a Candelara Si infiamma Anche il dibattito politico Sulla sicurezza E poi sono tanti anche quelli Tanti furti che non Non vengono neanche più Segnalati alla stampa Quindi praticamente Quasi tutte le sere insomma Tutte le notti più che altro Casello al palo Opera accessoria al via L'ingresso uscita a Santa Veneranda Deve ancora ricevere il parere del Ministero L'iter dovrebbe concludersi a gennaio Autorizzazione della Regione Invece per i 56 milioni di lavori Destinati alla realizzazione Di nuovi collegamenti stradali L'ultima pagina è quella del messaggero di Fano Anche qui la tragedia Nella rotatoria di Bellocchi La rotatoria della morte Così titola il giornale romano Verrà messa adesso in sicurezza Altri due incidenti Ieri uno in via Fanella L'altro in via della giustizia L'assessore Fanesi Allargamento del rondò E l'ampliamento della galleria Oshan Ridurranno la velocità In quel tratto di strada Che poi lo ricordiamo È un rettilineo Ospedale 5 Stelle Si tirano fuori dallo scontro sul sito Micioli no alla nuova struttura E alle beghe di Cortile Il capogruppo pentastellato Si rivolge e dice di Ceriscioli È già partito con il piede sbagliato Poi l'ultima notizia La leggiamo sempre dalla pagina di Fano Il messaggero Inquinamento a bell'occhi Prove d'intesa con il Comune La rassegna stampa Occhio giornale finisce qui Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie a tutti